Albano Carrisi, ecco Brigitta, prima figlia di Loredana Leciso. Castana, occhi scuri e profondi, la giovane sembra essere molto legata a Romina e Lunga R, figlia nata dalle nozze tra il cantante pugliese e la sua prima moglie, Romina Power. A dimostrazione di ciò, ci sono una serie di foto postate dalla ragazza sul suo profilo Instagram. E non si può fare a meno di ammettere che tra le due è un vero e proprio exploit di bellezza. Per quel che riguarda Brigitta, le informazioni su di lei non sono molte. Secondo quanto riportato da alcuni siti di gossip a 20 anni. Quanto alla sua vita sentimentale, sui social appare al fianco di un ragazzo che potrebbe essere il suo fidanzato. Ricordiamo che tanto Albano Carrisi, quanto Loredana Leciso hanno anche altri figli. Sempre dalle nozze con Romina sono nati Ilenia, scomparse in misteriose circostanze a cavallo tra il 31 dicembre 1993 e il primo gennaio 1994, ieri Marco e Cristel. Dalla relazione tra lartista pugliese e la sua nuova compagna sono nati invece altri due figli, Yasmine e Albano e Lunga R. Nel corso di un'intervista con Vanity Fair lei ha parlato del suo rapporto con la maternità, spiegando che i figli sono la sua priorità. Voglio vivere per loro, per il loro futuro. Questo è il mio obiettivo primario. Vengo da una famiglia molto unita, ha detto. Per quel che riguarda il rapporto tra Albano Carrisi e la sua ex moglie preferisce non commentarlo. Chiedetelo direttamente a loro. Io vivo la mia realtà. Chiariamo comunque che io non ho portato via l'uomo a nessuna. Albano era già separato e aveva sofferto molto per essere stato lasciato. Non ho distrutto io la loro famiglia, perché continuare ad accanirsi contro di me? Di seguito alcune foto di Brigitta Cazzato, Instagram. Grazie a tutti.